ehi la ciao e ciao pronto ciao eri sono davide ciao ciao no ma figo scusa te che non ti ho chiamato prima no e volevo chiamarti prima perché ho visto la tua intervista quella per la regione abruzzo che ha detto quelle robe no e nome sono un periodo sto facendo una dieta allora c'ho la testa un po e allora volevo no niente la dieta è iniziato a mangiare la merda sì no mi trovo bene mi trovo bene oltretutto è sempre di stagione la trovo sempre no ma a parte questo no ho sentito la tua intervista subito mi hai lasciato un attimo mi hai spiazzato un attimo poi ho detto ma sai che è la ragione il discorso della graffite che hanno iniettato la graffite poi fra 18 mesi possono poi 18 mesi che un anno e mezzo no 18 mesi fa molto parmigiano reggiano vabbè sì che comunque schiacciano un bottone e che ne so c'è quello fortunato tac gli viene una caghetta l'altro un infarto è bello fortunato si dici che bill gates vero anche secondo me infatti mi è venuto il dubbio sotto farmi è stato vedere fatto due conti e ho detto cavolo ma bill gates a e 130 miliardi di euro di patrimonio personale detto sui ammetti che se gli va bene vive ancora 35 anni se gli va bene per finirli tutti sempre che chiaramente non dovrebbero maturare gli interessi che però facciamo finta che dovrebbe deve per forza per finirli tutti deve spendere 11 milioni di euro al giorno cioè tutti i giorni c'è una volta sì quando una volta che rimane addormentato è ciulato però e quindi giustamente lui dovrà trovare il sistema per un attimo fare un po di grano perché non è che non penso che abbia la pensione ma magari alla minima quindi giustamente anche lui deve mangiare piccino eh no no ma hai fatto bene a dire queste robe qua ma io ti appoggio ti appoggio va bim dai ci siamo tranquilla sì ci sentiamo poi eh va bene bacio grosso sì devo andare a far merenda ma no vabbè poi ti dico ok ciao 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 ciao